ciao a tutti oggi prepareremo gli spaghetti alla carbonara il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa ingredienti sono guanciale tagliata a pezzetti spaghetti acqua sale pecorino tuorli d'uovo e pepe nero diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il pecorino ed azionare il bimbi per 10 secondi a velocità 10 mettere da parte senza lavare il boccale mettere il guanciale ed insaporire per 5 minuti 100 gradi anti orario velocità 1 trasferire in una ciotola e tenere in caldo senza lavare il boccale mettere l'acqua il sale ed azionare il bimbi per 10 minuti 100 gradi velocità 1 aggiungere gli spaghetti dal foro del coperchio ed azionare il bimbi per il tempo di cottura degli spaghetti che nel nostro caso è 12 minuti 100 gradi anti orario velocità soft e pian piano schiacciare gli spaghetti con le mani amalgamare un attimo con la spatola chiudere con il misurino nel frattempo sbattere i tuorli d'uovo con una forchetta e versarli nella ciotola con il pecorino aggiungere il pepe e amalgamare con la spatola la pasta è cotta scolarla e versarla nella ciotola con le uova e il pecorino aggiungere il guanciale ed amalgamare bene impiattare e servire spaghetti alla carbonara grazie e alla prossima ricetta grazie grazie